Accoglienza calorosa per il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodin, visita all'impianto sportivo Lello Simeone a Barletta, a dargli il benvenuto non solo le autorità civili e militari, ma anche le associazioni sportive cittadine e alcuni studenti dell'istituto Denitis, che hanno per così dire dato colore alla consegna della maglia e medaglia al ministro per celebrare l'atleta Pietro Mennea, che proprio su quel velodromo ha dato prova della sua velocità. È stato proprio il ministro, protagonista di un fuori programma, ovvero la videochiamata di Manuela Olivieri, vedova Mennea, a voler ricordare il campione olimpico a 11 anni dalla sua prematura morte avvenuta il 21 marzo del 2013. Una presenza sempre viva, soprattutto per l'esempio che ha dato nella vittoria, ma soprattutto anche nei momenti di difficoltà, la grande dignità, il grande onore, le grandi qualità sportive, morali, civiche. Credo che sia importante richiamarla quando possibile, soprattutto nelle nostre giornate lavorative, perché è questo il senso del ricordo che sempre vivo nei nostri cuori, penso in tutti i cuori dei barlettani, degli sportivi italiani in generale. Oggi è una giornata di visita, di presa di consapevolezza. Io ho incontrato l'amministrazione comunale già diverse volte a Roma. La cosa importante è capire come un impianto come questo possa riprendere pienamente vita e soprattutto dare seguito alla volontà dell'amministrazione e al servizio della comunità. Un sopralluogo, quello di oggi, che si configura quale occasione per fare il punto della situazione su quel velodromo destinatario di un finanziamento di 800 mila euro, inserito in una manovra finanziaria mediante un emendamento del senatore Damiani per la sua riqualificazione, ai fini dell'inclusione nel circuito della Federazione Ciclistica Nazionale. Perché se per il resto dell'impianto sportivo è avvenuta un'opera di restyling, grazie ai fondi europei a un cofinanziamento del comune di Barletta, per il velodromo c'è da programmare una vera riqualificazione. Io chiederò al Ministro di darci una mano per la sistemazione del velodromo, che è un monumento nazionale in realtà, uno dei pochi velodromi esistenti in Italia in cemento. e chiederemo anche se sarà possibile ovviamente avere questo privilegio di avere qualche piccola partecipazione ai giochi del Mediterraneo del 2025, perché abbiamo le strutture sportive adatte ad accogliere manifestazioni di questo genere.